Ciao a tutti ragazzi e bentornati, la vigilia di Milan-Juventus, ha parlato anche Massimiliano Allegri, faremo un resoconto di ciò che è stato detto in conferenza stampa, partita che è piena di incognite, io credo che sia uno dei mestieri più complicati fare dei pronostici reali, concreti sulla Juve, credibili anche di conseguenza, perché la Juve è in grado di far bene o è in grado anche di fare malissimo e anche nelle partite che magari sono più alla portata rischiamo sempre di scivolare nella buccia di banana. Oppure magari nella partita che dovrebbe essere più complicata magari tiriamo fuori una bella prestazione condita magari da tre punti d'oro, ecco come è successo per esempio banalmente con la Lazio, quindi credo che sia impronosticabile la Juve. Il Milan ha tante assenze, Furimegnan e Teo Hernandez per squalifica, la Juve dovrà fare a meno di fagioli per esempio, di conseguenza abbiamo un organico veramente ridotto all'osso anche nel reparto di mediana, vediamo che cosa ha detto Allegri in conferenza stampa. Prima di iniziare vi invito ovviamente a partecipare attivamente alla conversazione e a dare il vostro contributo nei commenti e vi invito anche a iscrivervi al canale. Ora partiamo a bomba, la prima domanda è la classica sempre di GTV, come sarà la partita? Lui dice sarà bella, stimolante, metteteci ogni aggettivo che vi pare e alla fine il sunto è quello. La partita è bella, giocare a San Silo è bello eccetera eccetera eccetera. Zero valore a questa domanda. Caso scommessi? Ecco qua già la cosa si fa interessante perché si esprime su fagioli. Infatti dice posso esprimermi solo su Nicolo Fagioli e gli altri due ragazzi posso stare vicino dal punto di vista emotivo. Ok? Fagioli è stato detto tutto. Il club si è pronunciato, ovvero col comunicato dicendo che appunto l'avrebbero aspettato e l'avrebbero aiutato e sostenuto. Per Nicolo inizia un percorso che lo porterà a fine maggio a ritornare in campo. Questi sette mesi serviranno a lui per mantenere la condizione atletica e soprattutto per impegnarsi nel sociale. Per poi essere pronto a rientrare a fine maggio. Infatti potrebbe rientrare per l'ultima di campionato. Perché Pioli e Marotta dicono che la Juve è favorita per lo Scudetto? È vero, hanno parlato e tutti mettono in mezzo la Juventus come possibile candidata alla vittoria finale. Non lo so perché lo fanno ma è normale che dicano che la Juventus sia favorita. Uno è l'allenatore del Milan e l'altro il direttore dell'Inter. L'obiettivo nostro è quello di cercare di fare più punti possibili per arrivare a fine maggio tra le prime quattro. Intanto godiamoci la sfida di domani col Milan e poi vedremo cosa saremo stati capaci di fare nella partita di domani. Questo è della serie. Vediamo, noi puntiamo tra le prime quattro e poi se si allaccia la giochiamo altrimenti ciccia. Questo è il sunto. Condivisibile o meno, io ve l'ho già detto, secondo me la Juventus non deve porsi limiti. Chi si pone limiti anche dal punto di vista degli obiettivi abbassa l'asticella in generale. Flaovic, tutta la settimana che si allena con la squadra e sta bene. Ieri ha fatto un mezzo allenamento, oggi valuteremo se convocarlo o no. Se lui è sereno può essere insomma abile e arrurabile. Questo è il senso delle parole di allegria. Io vi do un consiglio, se lo avete al fantacalcio mettetelo come riserva perché rischia di fare una spezzone di partita e rischia magari di incidere molto molto poco, se avete alternative che giocano titolari e che possono timbrare il cartellino. WEA chiave di lettura? Questa è la domanda che ha fatto Romero, una domanda molto interessante. Potrebbe giocare WEA visto l'assenza di Teo Hernandez? Indipendemente dalla squalifica di Hernandez, WEA sta crescendo. Dopo una prima parte di stagione dal ritiro alla tournée in America ha avuto un momento di down, ora ritrovate il suo equilibrio e a me ne ero male. Un giocatore che è arrivato ad un altro campionato ha bisogno di capire ma in questo momento sta molto bene. Non ha risposto alla domanda e io credo che alla fine non sarà tra i titolari. Poi, felice di essere smentito. Si sente caratterialmente... Questa è una domanda che io non ho capito. Si sente più forte caratterialmente di altri allenatori? Perché questa domanda? What? Non posso dire se mi sento più forte. Diverso lo sono dagli altri allenatori perché siamo tutti diversi. Ragazzi, questa domanda... L'assalto mi stava facendo già salire sangue al cervello. Una domanda stupida. Pericoli della vincenda extra calcio? Questa potrebbe essere una domanda più interessante. I pericoli del calcio ci sono sempre. Bisogna vincere le partite e vincere non è semplice. Per ora abbiamo fatto 17 punti e ne mancano tantissimi per arrivare ad essere tra le prime quattro. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, rimanere sereni e concentrati. Stessa roba che dice sempre. Le vicissitudini nella vita vanno affrontate e devono essere da stimolo per cercare di far meglio e trovare soluzioni. Quindi non ha detto nulla. Non sappiamo ancora qual è lo status del gruppo. Se sono carichi o magari c'è un po' di paura per questo evento dopo tutto ciò che è successo attorno a questa roba di fagioli. Kostic o Cambiaso? Devo ancora decidere tra uno dei due. Anche Ilinger è entrato e sta bene. Sono i giocatori che possono dividersi in questo momento la partita in due. Per cui uno fa una parte e uno fa l'altra. Chiesa potrebbe giocare titolare. Io devo capire solo se lui è sereno nel posto infortunio che ha avuto. È dovuto andare via dalla nazionale. Non ha giocato col Torino. Ha fatto mezzo allenamento. E per dire ieri era un allenamento quindi di recupero. Quindi hanno fatto tanto lavoro in settimana. E ieri era un allenamento di recupero. Oggi devo valutare le sue condizioni. Spero di averlo a disposizione perché domani è una partita importante. Beh, è chiaro. Anche uno spezzone di partita può essere sicuramente interessante. Poi per quanto riguarda la strategia del fantacalcio io vi dico no a chiesa se non è titolare. Curiosità da Milan-Juve. Vedere una partita che faremo in uno stadio a Stracolmo davanti a 80.000 spettatori contro una squadra che non dico che è la favorita a mano delle tre. Quindi? Ma perché fanno queste domande? Chi sarà capitano domani? Domani il capitano è Rabiot. Qua poi facciamo discutere nel chi dovrebbe essere capitano o meno ma cambio modulo. Viste le essenze in difesa di Daniele e Alexandro abbiamo Lugani, abbiamo Jusen. Non cambieremo niente ma l'importante è avere l'approccio giusto. Poi vabbè. Dolcetti appassionato di quadri. Che quadro è la Juve? Mi interessa veramente molto molto poco. Vlaovic titolare? Non lo so. Oggi dovrò decidere perché anche lui veniva da un periodo di inattività. se parte dall'inizio difficilmente avrà tutta la partita nelle gambe oppure potrebbe essere un cambio importante. Anche lui quindi indubbio, molto indubbio. Milik, Ken e Miletti trequartista. Stanno bene. Sono contento che Ken sia tornato in nazionale. Sta crescendo anche come ragazzo. Oggi c'è l'ultimo allenamento. Valuterò, deciderò. Speriamo di indovinarla. Quindi potrebbe esserci il tandem d'attacco Milik e Moise Ken oppure anche Miletti trequartista. E a questo punto prevedo. No? Vlaovic chiesa dalla panchina. Così a occhio. Poi vabbè ha parlato con fagioli. Eccetera. L'aspettiamo a braccia aperte. Le classiche robe. Squalifica di Gomez. L'ho presa che ha preso due anni di squalifica. Poi andando indietro gli organi di competenza tutelano tutto. Non dobbiamo pensare al Sevilla che il passato. Dobbiamo guardare avanti. Ma questi cazzi del Papu Gomez. Cioè perché i giornalisti ci mettono in mezzo a roba che non c'entra nulla con la Juve? Rugani. Daniele in questo momento può giocare sia in mezzo sia a destra che a sinistra. È un giocatore affidabile. L'ho sempre stato ancora di più. Abbiamo poi Dan Heusen che è giovane ed è pronto anche lui per giocare se ce ne fosse bisogno. Eling mezzala. Questa è una domanda molto interessante. È più probabile che Eling faccia la mezzala di Hildiz. È un giocatore che... Perché quest'ultimo è un giocatore che fa gol. Poi ci sono anche altre soluzioni. McKennie torna al centrocampo. L'avevamo già visto anche nell'ultima partita. Eling può fare la mezzala. Soluzioni ne troveremo. Vista la squalifica di Fagioli e l'assenza di Pogba che da noi ieri si è aggregato. Cioè che con noi da ieri si è aggregato e sarà stabilmente con noi. Nonge. 2005 molto molto bravo. Che è il pupillo di Romeo. Per cui vista l'assenza di Pogba e Fagioli. Nonge in prima squadra aggregato fisso. Grande perdita per la next gen. Perché è un giocatore straordinario. Nonge. E niente ragazzi. Tante incognite. Io prevedo il tandem d'attacco. Milik Ken. Mi auguro di non rivedere Miretti sotto punta. Perché è stato un 3-6-1 l'ultima partita in cui abbiamo giocato così. Vi ho fatto anche vedere tutte le situazioni. In gara non è stato bravo a far da collante. Si schiacciava troppo verso il basso. Isolava troppo Moise. Anche Moise soffre secondo me l'assenza di un giocatore che gli stia vicino. Cioè Moise Ken ha bisogno a mio parere di un giocatore che gli stia vicino. Quindi il tandem funziona meglio rispetto a Miretti che va e viene. Questa è la mia opinione su questa situazione che sarà da monitorare. Ecco. Perché questo è veramente il grande dubbio di Allegri a mio parere. In difesa credo che giocherà Rugani. Non metterà Danny Yusen a San Siro. Esordio totale in campionato con la Juventus in prima squadra. Sarebbe veramente stupido. Più che altro c'erano diverse partite in cui testarlo. Partite anche tranquille. Forse darei un po' di minutaggio e gli avrebbe consentito di entrare in un momento di difficoltà come questa vista l'assenza di Alessandro e di Danilo con una maggiore tranquillità. Questo è l'unico rimprovero che faccia da Allegri. Cioè i giocatori non vanno buttati nella mischia solo per necessità. Ma bisogna preparare ad essere pronti nelle necessità. Dandogli anche scampoli di partita quando ce ne bisogno. Questo è. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale e sempre fino alla fine. Forza io ragazzi.